Allora ben ritrovati i miei discepoli, oggi torniamo sul mio acero credente e soprattutto torniamo sulla questione come imparare ad impostare un bonsai in autonomia da soli Ok quindi adesso andiamo a vedere la pianta a 360 gradi Così finalmente vi faccio vedere un cazzo di bonsai perché continuate a vedere video di altri personaggi, di altri ragazzini che accendono la fotocamera Allora per carità a me fa piacere vedere dei ragazzi che si danno a fare, che comunque vogliono iniziare Sono neofiti come voi quindi che cazzo continuate a seguire e a fare poi quello che fanno vedere loro oppure a fare quello che vi dicono loro A quella gente lì ragazzi non va chiesto un parere perché non sanno neanche loro quel cazzo che stanno facendo Cioè poi la chiudo eh Non capite un cazzo voi perché siete all'inizio e comprate piante che fanno cagare e ve le fanno pagare il triplo e poi secondo voi a un certo punto No assolutamente no quindi non capite un cazzo voi Chiedete a gente, cioè chiedete consiglio a gente che non capiscono un cazzo neanche loro perché secondo voi ah no siccome sta facendo un video allora sa far bonsai Non è così che funziona Cristo, cioè la mia fotocamera, la Sony Alpha che ho lì, il corpo macchina più l'obiettivo ho sputato Costano più di 4.500 euro solo quella ok quindi secondo voi ok secondo per fare un video del genere Per avere un look professionale poi c'è anche il bonsai perché sennò col cazzo che la gente poi ti segue Però potete capire che tutto questo insieme anche le luci che ho tutto questo insieme serve poi per lavorare Lavorare quindi quando vedete un coglione che sta lì che vi consiglia dei prodotti Ah prendi questo perché questo funziona così ci guadagna Cioè la roba da influencer cioè capito? Quando vedete un coglione che fa due tagli su una pianta e col cellulare così Ragazzi ma che professione, ma che cazzo è quella roba? Fermi, mi piace, sono contento che vi date da fare Mi piace, fermi, chiedete consiglio a degli esperti perché sennò non capiscono un cazzo loro di quello che stanno facendo Pensate allora se anche voi iniziate a fare così, non è per parlare male ma son neofiti, punto, basta Smettete di mandarmi foto o video, ah secondo te ha fatto bene No, non ha fatto bene un cazzo perché non c'è neanche sotto il bonsai, Cristo Andiamo a vedere Andiamo a vedere il mio acero tre dente Questo è un bonsai, ok? Quindi se mi... oh no ma che cos'è? Come funziona? Questo è un bonsai vero, ve lo faccio vedere Piede Piede che sono quasi 40 centimetri, ok? Pianta conica che va su Ok? Non una merda rotolata che spruzza da tutte le parti Cioè, un bonsai cazzo Professionista c'ha un bonsai, dai Pianta della Madonna, pieda della Madonna Conico va su, tutti i rami primari, belli impostati Adesso molti diranno, beh l'hai comprata Sì ma un neofita non compra una pianta del genere, Cristo Dovete capire sta cosa Un neofita non spende 4-5 mila euro in un bonsai Perché poi gli muore, ok? Cioè cercate di capire, uno che ha una pianta che fa cagare Ce l'ha per un motivo Perché non sa far bonsai ancora No, non compra una pianta da 10 mila euro, cazzo Oggi proprio sono Sarà il Natale Sarà Santo Stefano Sarà che ancora la pancia è piena Però quando vedete una persona che fa dei video Poi vi presento Poi vi presento il mio nuovo servizio Fino ai video così vi insegno a far bonsai veramente Ok? Qui in laboratorio Con me Ok ragazzi? E non spendete una follia Qui in laboratorio con me Io vi insegno a far bonsai, ok? Però quando vedete Un ragazzo che fa un video col cellulare Che ha l'immagine, il video tutta sovraesposta Che ha la faccia bianca Lo sfondo bianco, nero, blu Non c'è neanche il bilanciamento del bianco E in più il video si muove tutto E adesso taglio E magari c'è anche un cazzo disegnato nel fondo Cioè potete capire che Quella roba lì è una prova Cioè è un neofita che sta iniziando E va bene Sono felice Cioè da qualche parte bisogna iniziare Però, ve lo ripeto Un professionista è un professionista C'ha partita IVA Lavora C'ha marchio registrato C'ha i bonsai Cioè sapete quanta gente è passata Qui era un permi il cazzo E poi alla fine ha smesso di fare i video Semplicemente Semplicemente perché non stavano facendo bonsai Sono resi conto che con quella cosa lì Non si campava Molti dicevano Ah no ma col bonsai in Italia non si campa Ma non c'hai neanche il bonsai Grazie al cazzo Inizia a fare bonsai La gente poi dopo inizia a seguirti Magari Se sei veramente un professionista La gente compra Ok? Questa è la verità I soldi vanno solo Dove c'è qualità e serietà Io farò il coglione su YouTube Però a un certo punto Vi sbatto in faccia la verità Cioè i miei video sono un pugno in faccia Rispetto a quello degli altri Cioè è la verità Cioè è inutile Come si fa a imparare a fare bonsai? Allora ragazzi Ovviamente chiedendo consiglio A questi ragazzini Ragazzi Ragazzini ma anche Anche babbioni Cioè gente che fa bonsai da 20 anni 30 anni Che ancora usano Biogolla Kadama Se ne vedo tutti i colori Cioè quella gente lì Vi porta su una strada Che è totalmente sbagliata Ok? Perché? Perché con quei prodotti Non c'è veramente spinta In più Molto spesso Gente che promuove altri prodotti Non li ha mai neanche usati Cioè li ha appena presi Gli hanno detto che gli danno il 2% Dai vuoi due briciole del fatturato? Allora di che questa roba è buona Così Un po' di elemosina Non si può lavorare così ragazzi Cioè dai Non è bello Non è neanche bello Secondo me Ok? Io Visto che è una produzione Vado avanti da 6 anni E sarà Sarà il quindicesimo Con cime che produco Ne ho sentite tutti i colori Me ne ha detto tutti i colori Però come vedete Ogni anno Boom 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 Vado sopra Vado sempre sopra E soprattutto Sono prodotti dove si capisce Cosa servono Cioè io vedo dei prodotti In giro Non si capisce un cazzo Scritti in giapponese Nomi Nomi strani Che non TNT starter Bonsai Bonsai TNT starter Serve per Per la ripartenza Primaverile Ok? È un starter Ok? Quindi la professionalità Si vede anche già dal prodotto Da come si presenta Però per chiudere il discorso Se chiedete a quella gente Ragazzi È inutile Avrete sempre dei dubbi Semplicemente perché Loro sono i primi ad avere i dubbi Come voi Cioè sono neofiti State chiedendo consigli A dei neofiti Quindi per favore Fermatemi un secondo Poi continuate a fare come cazzo vi pare A me non mi interessa un cazzo Io Bonsai ce li ho Sono pure i clienti Sono pieno di Su WhatsApp Sono pieno di gente Che vuol darmi i soldi Che cazzo me ne frega Dalla fine Di cosa volete fare voi Però perché Ho attivato questo nuovo servizio Il workshop master È un servizio che è dedicato Solo a poche persone E sono delle sessioni One to one Quindi una persona alla volta Qui in laboratorio Con me Per quelle che mi stanno chiedendo I prezzi Come funziona Quanto tempo dura Ragazzi Semplicemente mi mandate Le foto delle vostre piante Ok Così iniziate a candidarvi Perché ovviamente Io qua in laboratorio Non voglio cani e porci E non voglio nessuno Che poi mi porta della roba Che è impossibile da sistemare Ok Perché non voglio Farvi tirare fuori i soldi Se non c'è bisogno Ok Oppure Tirate fuori i soldi La pianta Fa cagare Non è sistemabile Vedete Su da me Su nella mia gabbia Vi faccio vedere Che cazzo è un bonsai Quindi Quelli non è Non sarà neanche La giornata persa Quindi Per i prezzi Se avete una pianta Da poco 50 euro ragazzi E ve la cavate Ok Briciole Considerando che Io sono un professionista Considerando che So far bonsai 50 euro Sono briciole Ok Venite qui con la pianta Ve la sistemo Ve la miglioro Vi dico come fare Nel futuro Vi dico cosa dovete Cosa cazzo dovete fare Perché se no non capite niente Siete qua di fianco a me Vi metto mano alla pianta Vi faccio mettere il filo Anche a voi Se c'è bisogno Vi sposto i rami Vi dico dove devono stare Così finalmente Avete una piccola impronta Avete un qualcosa Da portare a casa Che vi servirà E con 50 euro Che non sono un cazzo Ok Avete un risultato Ok E soprattutto Venite su come nella gabbia E vi faccio vedere Come cazzo sono i bonsai Perché molti di voi Ancora non li hanno visti Perché ancora chiedono consigli A gente che ha ciclamini Tutta quella gente lì ragazzi Non è per una cattiveria Tutta quella gente lì A un certo punto sparirà Cioè è così ragazzi Perché tanto Lo fanno anche loro Per soldi Sembra che stanno lì Per fare social Anche loro vogliono guadagnarci Ma la gente I soldi li dà Soltanto ai professionisti Ok Solo a chi ha partita IVA E solo a chi dimostra Quei fatti Come si portano avanti I progetti seriamente Come avete visto Io all'open day Ero pieno fino qua Cioè da solo Ed è per questo Che ho aperto Questo servizio nuovo Perché da solo ragazzi È stato un massacro Sono contentissimo I miei ragazzi Della masterclass Io me li riprendo di nuovo Fra un mese e due Qua a fare questa cosa Però ovviamente Una pianta a testa Ok Così mettiamo bene mano Facciamo lavori Fatti bene E soprattutto Imparate a fare buon sale Perché a un certo punto Bisogna mettere mano Seriamente Ok Però Se volete venire qua Al laboratorio con me Con soli 50 euro Che non è un cazzo Quindi vi vengo incontro Al massimo Così Potete venire qua E soprattutto Quando siete qua Potete anche comprare I prodotti personalmente Con un bel 20% Di sconto Ok Quindi chi viene qui Ragazzi Lo faccio Semplicemente Per farvi un favore Per farmi piacere Perché io Sto benissimo Anche così Quindi Prenotatevi Candidatevi Se vi accetto A quel punto Ragazzi Ne vedrete delle belle Ve lo posso assicurare Detto questo Prossimo mese Nuova masterclass Scusate E' stata E' stata durissima Questa settimana Quindi prossimo mese Masterclass Dove vi dirò anche Le nuove date Dell'open day Per nuovo open day Però se volete Fare una sessione Da soli Con me Ragazzi Datemi retta Ne vale Assolutamente La pena Mi iscrivete in privato Ovviamente Fermi E siete neofiti E volete imparare Ci sono le prime armi 50 euro E' una cazzata Mi do tutte le informazioni Vi aiuto anche A impostare la pianta Se invece Siete in livello Un po' più alto Avete delle piante serie A quel punto Con 50 euro Mi potete anche Scrivetemi Vi faccio un preventivo Fatto bene Serio E vediamo di trasformare Questi materiali Perché è fondamentale Prendere giusto La strada giusta Ragazzi Ok Adesso a parte le cazzate Perché mi piace dirle E va bene così Piace a tutti Ci divertiamo tutti Però Quando avete una pianta seria Bisogna fare le cose bene Soprattutto non bisogna mai sbagliare Questa è la verità Perché quando si sbaglia Ragazzi Sono dolori Soprattutto Se tutto va bene Si perdono anni e anni E anni di lavoro Quando la cosa va male Magari si perde anche la pianta Quindi non va bene Quindi la prima cosa da fare È comprare un materiale serio Però comprate un materiale serio Dai Non quelle cagate Le fanno pagare il triplo E fanno cagare Non sono sistemabili Perché hanno la vegetazione qua su E il tronco qua giù Cioè dai Sono dei pali È difficile sistemarle con le robe lì Ok Quindi miracoli non li fa nessuno Però Step dopo step Quando venite qua E vi faccio la prima impostazione Poi tornate l'anno dopo Oppure sei mesi dopo E ve la sistemo di nuovo Noterete che già dopo sei mesi Un anno Ragazzi Da così A così Ok La pianta cambia Da così A così Dopo la prima impronta La prima impronta Avremo la impostazione primaria E gli altri due step Magari dopo In un anno Ragazzi C'è uno stravolgimento Che è esagerato Quindi chi vi dice Che ci vogliono vent'anni Trent'anni Quella è gente Che ancora vive nel passato Dai Gente che fa le cose Al contrario E aspetta vent'anni Perché tanto Il risultato non arriva Ok Questa è la verità Chi vi dice Di aspettare Dieci Vent'anni Perché il risultato Non arriva Allora c'è da aspettare C'è da aspettare Ma che cazzo Dovete aspettare Quando i prodotti funzionano E la testa funziona E le mani funzionano Ragazzi Due sforbiciate Due fili E l'anno dopo Avete una pianta Della madonna Questa è la verità Ok Quindi Scegliete di venire da me E scegliete poi dopo Di continuare con me Tutti gli anni Perché se poi portate la pianta Da un altro Ve la sbrandella Tutto al contrario Io lo dico Io ne vedo un sacco Di piante impostate male Cioè Anche nei video di youtube Che vedo Cioè Sbagliano il fronte Sbagliano l'inclinazione Che cazzo Impostatevi Cioè È tutto sbagliato ragazzi Dai ma state tranquilli Mettete giù le mani Se non siete sicuri Mettete giù quelle cazzo Di mani E fatevi seguire un attimo Ma un attimo Almeno una giornata Un pomeriggio Ci si prende Con calma Guarda No Aspetta Hai sbagliato Fai così Così almeno riparti Col piede giusto Il prossimo anno E la pianta Puoi rivendere al doppio Anche quelle persone Che adesso Stanno vendendo piante Perché hanno Ho troppe piante Voglio liberarmene Quella è gente Che si è resa conto Che ha sbagliato tutto Cioè Che con le piante Che hanno comprato Facevano tutte cagare Sono tutte piante Io ragazzi Posso anche Io vi insulto E vi offendo spesso Ma è l'unico modo Per farvi capire Che le piante che avete Fanno cagare E non diventeranno Un cazzo di niente Come avete visto In alcuni video C'è gente che adesso Sta vendendo le piante Ma non è che le vuole vendere Per fare il salto di qualità Le vende Ma le sta svendendo Le sta regalando Non è uno skill up Sta buttando via Tutta quella roba Che ha accumulato Fino adesso Che fa cagare Che non diventerà più niente Quindi Quando vi accorgerete Che con la roba lì Poi non è sistemabile Non è migliorabile Ragazzi Sarà veramente Come un pugno Nello stomaco Ok Quindi datemi retta Ogni tanto C'è anche qualche pianta Io da vendere Vi prendete una pianta seria La fate impostare Sistemare da me È tutta un'altra cosa Fidatevi Ok E ve lo dico per voi Perché a me sinceramente Non me ne frega un cazzo A me piace Vendere le cose Del mio sito Poi il resto È tutto in più Tutti i servizi aggiuntivi Che aggiungo Solo a gente Che vuole imparare Veramente a fare buon site Detto questo Sto mese c'è videocorso Sugli ultimi giorni Con la cielo tridente Videocorso La potatura Autunnale Così imparate anche A mettere in mano Ste cazzo di piante Perché se no Prendete le forbici in mano E tagliate i rami che servono Cazzo Cioè Tagliate i rami bassi Porca troia Che devono stare belli Forti Lunghi e grossi Non lo so Anche lì Se non sapete che cazzo tagliare Fate un ordine sul sito Guardate il videocorso Vi spiego 4 cose È un video di 30 minuti Li faccio apposta Corti È gratis Così guardate Imparate prima di mettere in mano Perché se no Non capite un cazzo Ok Saluto a tutti Ci vediamo al prossimo video Mi dispiace Se anche stavolta Vi ho sparato Vi ho spaccato il culo Cioè Io ragazzi Vi sbatto la verità in faccia Poi dopo sta a voi Decider se iniziare A fare buon seriamento Se continuare A raccontarvela da soli A scambiare opinioni Con gente che tanto È neofida come voi Quelli che vedete In un altro canale Che non è questo Sono tutti neofidi E fra qualche anno Spariranno Ve lo posso garantire Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video E mi raccomando Concemate a bomba Con i prodotti che funzionano Con le cagate Che trovate in giro Ciao a tutti Con i prodotti che funzionano 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 Con i prodotti che funzionano